... Napoli. Sperano, dopo giornate d'Atlantico, di sgranchirsi le gambe. Invece, oltre alla navigazione, tocca loro un piccolo volo. Figlie delle vaste praterie, non si sa se amino le ebrezze dell'aria. Più rassicurante, il piancito degli autocarri, su cui compiranno l'ultima tappa del loro viaggio, verso i luoghi di smistamento. I figli nati in alto mare imparano la terraferma. Alcune sono un po' riottose, ma tutte di buona razza, scelte anzi tra le tre migliori razze americane. 1026 di queste vacche, con 22 tori, ci sono giunte in dono dall'America in 14 mesi. Sono state assegnate gratuitamente ai contadini cui la guerra aveva svuotate le stalle. Il 70% di esse è affiliato. I loro possessori sono tenuti a consegnare il primo vitello a chi non abbia beneficiato ancora della distribuzione. Molto snob e un po' gagarello chi vuol conoscere la nuova arrivata.